Di riprendere i video, buongiorno, qualche settimana dopo Ragazzi, non ci siamo eh Mi fa la battuta che hai fatto a me prima? Com'è? Allora, contestualizziamo prima Non so se vedete qualcosa dietro, questo è un segno di dove andremo Ragazzi, allora Appena svegliate siamo in bar di Bergamo Perché stiamo andando in agenzia per consegnare le chiavi Fondamentalmente il nostro video è un po' il finto senza che... Ciao Bergamo Ciao Bergamo Ciao Non so che sono me Cioè, vi spiego meglio Buongiorno signora Pausa un attimino Vi dico solo che ho preso due cornetti oggi Una pistacchia da cioccolato Per recuperare la notizia La sciocca della notizia Allora, a casa Noi siamo vivendo il periodo del colonnale Vero? Grazie Siamo certamente nella fase topica Topica, la fase di espansione del bing Di espansione, espansione Qua la legione Lombardia ha bloccato tutto Ha bloccato il corso per due settimane E ovviamente che cosa hanno fatto i nostri cari amici dell'amministrazione? Buongiorno Istantaneamente trasferiti ad anni in Germania e Francoforte nelle foreste Bene? La città più vicina ha un'ora e mezza di macchina In tutto questo, meno di 12 ore Probabilmente, sì, dentro stasera dobbiamo essere all'aeroporto e andare via Quindi con c'è un altro capitolo di questo corso di banco apposto d'Europa Preparatemi, preparatemi perché ci sarà il survival Dobbiamo fare ancora le problemi Poi capirete ancora meglio Considerate, guardate dietro di voi Questi sono gli armadietti che abbiamo là Dicono sia gli armadietti di video Dicono sia gli armadietti di video Dicono sia gli armadietti di video Assurdo Che macello Che macello Che macello Ovviamente, a parte Flavio e i pescini in bagno Queste sono le cose Ci proviamo ancora in casa Stiamo vedendo cosa cucinare, cosa lasciare, cosa portare Sopra stiamo provando il resto delle cose Mi canta Nel frattempo E mancherà un po' di tempo E questo invece aiuto Stiamo aspettando da dire l'altro componente Ragazzi, ancora tutte le cose in mezzo Però abbiamo altre No, abbiamo altre quattro ore Stiamo a discendere Non si trova niente Non si trova niente Che cazzo Passa, eccola Abbiamo ripreso quei video, Giovi Salve a tutti Eh sì, abbiamo spiegato un po' la situazione complicata Abbiamo fatto anche dei sondaggi Abbiamo vinto con questo Ma soprattutto Wilson, ragazzi Voi lo scoprirete direttamente poi Lo portiamo o non lo portiamo? Ciao Poi ci proviamo a chiacchia Sì, il nuovo combattente è tornato Anche tagliato, eh Su, ma che pello Incredibile Sono ripresi video Ah sì? Sì Siamo Ah, lo sai ho visto l'ultimo video mentre ero là Sì? Great Ultimo saluto alla casa Eccolo, il giovane frate guerriero Che si appresta a rimuovere il pezzotto Dalla televisione consapevole che è in Germania Non lo potrà fare Il mio vero Io Faremo sempre e comunque ragazzi Meno di un'ora e mezza Dobbiamo stare nell'aeroporto Che poi lo faccio Pezzotto is the way Pezzotto is the way Ehm Finisce l'avventura a Bergera e comincia l'auto Se partiamo, occhio Eh, la prima Mi sono appena arrivata in aeroporto Abbiamo ripreso i video Se lei che vuoi dire? Che non sarò un EPP Ehm 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 Rimaniamo qua ovviamente Wilson è arrivato con noi, hai visto? Il tuo voto è stato giusto Ma io Abbiamo ripreso Oh, accaderemo pure l'artista Non male Donna mia Guardate la faccia Di una morte apparente Ma è zona e ambragone Ragazzi ci siamo Siamo arrivati Guardate per cui ci stavo Da Napoli a Bergamo Da Bergamo Eccoci qua Non arriveranno mai Ma infatti Guardate quante cose ci devo portare Ci rimarranno tutti i quadri Ehi, non l'hai inquadrata Poi è arrivata Come stai? Vado vicino Vado vicino Vado vicino Andatevi a andare vicino Che tal tia? Sei pronta per l'Ibiza Sempre famosissima Ibiza Che è Anna Ma fa caldissimo È diventata Anna Incredibile ragazza Ah il cane sono tornato i video Guardate là da Trastevere Chi ci ha avuto a trovare Eccolo Allora Questa è la linea Bellissima Ovviamente Un paio di orette Sono cinque Mai Mai Un'ora e mezza E stiamo Ma me papà dentro Sì? Sì Guardi un attimo Per cortesia Grazie Ok Sì Perfetto Aumenta ancora il peso Ai canna I Colleghi che non vede i video C'ho sé Anche se si vede In vera ombra Ragazzi Marta Roberti Ti vedi o non ti vedi Oh no Guardati e parla Devi dare il contributo Al canale E che devo dire Cortesia Così però Vabbè Siamo qua riuniti Abbiamo Il nostro Lui già sta proiettato Eccoci qua ragazzi Dentro e fuori Reaner Perché il cuore Batte un Com'era Vabbè ma la mia faccia Eh sì Dobbiamo fare qualche Vabbè ma la mia faccia Non così Sgiralo Sennò viene male No Così vuoi che viene La faccia mia Vabbè comunque Stiamo andando a Frankfurt Men Sì Dici pure Eccola qua Ah boi ah Vabbè limoncello Lassa due Guardi hanno solo fastidio però E mo' l'S e Luca Lo sta Già è entrata su YouTube Regione Regione In West Palerenania Lo sbarco in Normandia Ci siamo tutti Eccoli qua ragazzi Siamo arrivati a Damm Incredibilmente Allora ci sono diviso Per classi Allora adesso Prenderemo lo shuttle Viene un pochettino Tutta la dimensione Dopodola Ci sono gli altri Che stanno arrivando Uè incredibile Già vuoi uscire dai video Eh morti Eh quindi Assurdo Benvenuti in Germania Willkommen Vieni Il atteggiamento giusto Salve ragazzi Finalmente Siamo fuori Di attesa Eccoci qua Ragazzi Ma mi ha promesso Una serata Solo arancini Solo arancini E cipolline Ragazzi No solo a me Arancini 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 Ti dimenti adesso Vediamo La fine È la fine Ragazzi Ragazzi Fra due settimane Ti lascio in buone mani Ragazzi Ti lascio in buone mani Non torniamo a vincere Assurdo Se ne va ragazzi Veramente Ci hanno diviso in classe E la classe La classe Di là Ragazzi Il pullman stipati Lui direttamente Sembra la gita Direttamente Da sto di cava Frittati i maccaroni Non ci sta Niente proprio Asciutti So bad Però Ci siamo Tra un po' partiamo Forse per le due Ah ovviamente Abbiamo ricevuto la notizia Che domani non c'è Per il corso E che le sono Undici Sincronize watch Due ore per arrivare Poi vi faccio sapere A chi lo andiamo a me Benvenuti a Frankfurt Fun Impressionante Peppi Non ci saldiamo Mamma Brukarman C'è assurdo Veramente Com'è Perfetto Capito no? Ragazzi Un attimo La situazione Eccoci qua 217 Infatti un attimo Un cambio Il già tattico è qua Bagno veloce Struttura Proprio così Bagno carino Sì ma non c'abbiamo Però c'abbiamo niente Non c'abbiamo niente Raga niente Dobbiamo mangiare Ma fa un assurdo